Io mi chiamo Selakovic Maria, sono uscita molte volte sui giornali e anche su trasmissioni. Non desidero essere famosa né fotomodela, desidero essere famosa per i poveri, per essere la loro guida, per essere loro in aiuto. E come prima desidero dare molta solidarietà ai nostri fratelli muslimani per le guerre che stanno succedendo nel mondo. E voglio dire loro, vi prego, abbiate un pochettino pazienza, pregate tanto Allah che lui è così grande e lui aiuterà tutto il popolo muslimano che adesso sta soffrendo. Io che sono croata, però amo così tanto tutte le religioni che esistono su questa terra perché noi siamo tutti fratelli e figli di unico Dio Padre nostro. Ecco, io vi dedico questa preghiera con tutto il mio cuore perché veramente l'ho imparata per voi, fratelli muslimani e che Allah sia sempre con voi. Ameen. guardate fratelli muslimani io lo so che nel mondo regna molto razzismo ma io so io i conosco molto bene e so che siate gente buona e che non siate violenti perciò quanto le persone vi parlano dietro abbiate un pochettino pazienza perdonate perché Allah vuole da voi che voi al primo posto perdonate quelli che vi perseguitano vedrete che arriverà la pace in tutto il mondo pregando Allah e stando vicino all'Allah unico lui che ci può aiutare che Dio vi benedica e che Allah sia sempre con tutto il popolo muslimano